Comunque vediamo il ritorno di Alfageme oggi e il Banese, voluto fortemente dalla dirigenza, è ritornato, era stato accostato al Pinedo, ma poi non se n'è fatto nulla, non ha firmato più per il Pinedo e torna in coppia con Congiu. Manca Esposito che sembra che sia infortunato, quindi veneto cittadina marchigiana, vincente ad Avellino qualche anno fa, buona la rimessa di Antonio Riccio, lunga gittata, cercare il Wozni. Il Matesino Doc, buona sta palla in mezzo, Alfagene fuori gioco, scacco, Bruno Alfageme, bella sta triangolazione, ancora Bruno Alfageme, Alfageme a tu per tu con De Luca, c'è stato anche uno spintone su Scacchi e si è stirato ancora, sembra che sia stirato Alfageme. Fabiano mette l'ennesima palla in mezzo, stacca bene la palla, attenzione, ancora Congiu questa volta si riscatta, troppo profondo, ancora, buona questo Fabiano, buona, c'è stato un fallo che poteva essere l'avvisato qualcosa di... Boboricci, ottimo questa palla di Fabiano per Scacco, Scacco ancora, non arriva Bruno Aluosini, grandissima giocata di Scacco, ottima questa intuizione di Scacco. Boboricci, ottimo questa palla di Fabiano per Scacco, Scacco ancora, non arriva Bruno Aluosini, grandissima giocata di Scacco, ottima questa intuizione di Scacco. Praticamente c'è stata un'indecisione, è a botta sicura, Boboricci, ancora bene. Siamo anteriore, Vincenzo Ricamato. Buona, 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 Boboricci, Boboricci, lui ha tu per tu con De Luca. Bruno Aluosini, niente da fare, 0-0 primo tempo. Ben quattro Matesini, non è il primo tempo, però ha sempre qualche numero come questo quadrano che salta secco Antonio Riccende. Comunque, batte Ristocci ed è gol, ed è gol, ed è gol, ed è gol, ed è gol del Nereto. Questo è il calcio. Alessio Langellotti. E' il grande intervento del portiere, e' il grandissimo intervento del 2002. Il drop. E' gran tiro di Alessio Langellotti. Si affaccia anche con più commissione in avanti. Boboricci, buona questa giocata di Alessio Langellotti, Boboricci. E' gran parata, incredibile adesso veramente il culo. Antonio Riccio alla lunga gittata, a cercare Eluosini. Setola tenta il tiro. E' spiola incredibilmente la traversa. Buona questa apertura, a cercare Boboricci. A tu per tu con il portiere. Alfiane. E no, non è giornata, non è giornata. Alfiani, Alfiani ancora. E' ancora De Luca, ancora De Luca. Prendiamo una punizione del tutto gratuita, in una posizione come prima. Tinesimo. E pareggiamo. Pareggia Lairone Congiu. Fisca bene così. Buttiamo letteralmente dalla finestra due punti.